Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 traffico intenso tra Calenzano e il BV A1 variante di Valico in direzione di Bologna. Prudenza personale su strada sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli, Valdarno e Ponte d'Era Est direzione Livorno. Ci sono lavori anche in A11 tra Monte Catini-Terme e Pistoia in direzione Firenze. In A12 segnalato un controllo di velocità tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano Sud. E sempre in A12 ricordo che fino alle 18 di oggi è chiuso lo svincolo di Colle Salvetti in entrata e in uscita per lavori in direzione Rosignano. Lavori di Publiacqua a Firenze, via di Brozzi all'altezza del Civico 198, un allaccio con restringimento di carreggiata e impianto semaforico. lavoro fino al 27 novembre, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.